Buonasera, puntata zero di N come neve. Non poteva essere che così, la stagione è di neve, magari un po' poca da qualche parte. Si sono già disputate le prime gare e noi ne abbiamo seguita una in particolare, Alizzola, il 6 gennaio 2018. E per parlare di questa gara abbiamo portato qui Marco Merelli e Giuliano Zanga. Marco Merelli, buonasera. Buonasera. Marco Merelli era il direttore di gara, poi ci ha messo anche che era il direttore di pista, ma queste sono cose sue. Giuliano Zanga ci ha portato delle immagini che poi la regia ci manderà, stupende. Ciao Giuliano. Buonasera. Terza edizione della Mario Merelli c'è, a ricordare uno degli alpinisti più generosi, uno degli alpinisti più simpatici, uno degli alpinisti più limpidi che è mancato qualche anno fa. Terza edizione, bella ma con un tempo meteorologico sempre dannato, vero? Diciamo che ogni anno il meteo ci vuole mettere alla prova, siamo, come hai detto giustamente tu, alla terza edizione. In tutte queste tre edizioni la variabile meteo ha giocato una componente importante. Quest'anno purtroppo c'è stato questo brutto tempo che ha un po' inciso sulla partecipazione della gara, però tutto sommato credo che la cosa importante sia quella di essere pronti ad ogni evenienza e fortunatamente abbiamo un gruppo che ha dimostrato e sta dimostrando in questi anni che nonostante le avversità climatiche è in grado di lavorare e ha regalato questa nuova edizione. Vediamo un'immagine di Mario Merelli e vediamo colui che ha portato le immagini della terza edizione di Marco Merelli. Giuliano Zanga, Giuliano non so mai se dire che tu sei un alpinista, uno sci alpinista, io ti apprezzo in tutte le tue salse ma soprattutto ti apprezzo come operatore televisivo perché anche quest'anno hai portato delle immagini bellissime in una giornata meteorologicamente pessima. Con quante telecamere hai lavorato o su quante telecamere hai lavorato? Ho lavorato con due telecamere, una GoPro posizionata sul corpo e una manuale. Però c'avevi anche altra gente che ti dava immagini? Sì, sono stato supportato dagli amici, da Luca Pirola che mi ha dato le immagini quando attraversano il paese e anche il Maurizio Torri che ha ripreso proprio la partenza, quello che era il via, che è forse la parte più entusiasmante della gara perché partono tutti di corsa. E poi un passaggio da un altro amico, Enrico, che era il suo primo passaggio, il primo cambio pelli e riprendeva un po' i primi passaggi degli altri. Qui vediamo la partenza, raccontacele un bel casino. La partenza sì, è un bel gruppo che parte come cavalli di corsa e fa un certo effetto sentire gli scarponi sull'asfalto che insomma battono un po', non è come sentire lo sci che scuore sulla neve. Come si fa a star fuori da una gara così, uno che ama lo sci alpinismo come te? È difficile, in effetti devo ammettere che per me è un po' una certa fatica andare su a filmare, a riprendere quando mi sento ancora voglia di correre. Però non tutte le gare, insomma, anch'io ho la mia età e devo un po'... Risparmiarti? Sì. Qui hanno messo gli sci, qui si sale e qui parliamo di percorso. Se tu parli troppo a lungo del percorso, noi tutti, io e i telespettatori andiamo in palla. Io l'ho chiamato un percorso che sarebbe intanto, vediamo, William Boffelli e Pietro Lanfranchi ai primi passaggi, i due protagonisti principi della gara, il percorso è stato fatto per idealmente gratificare Dino Marelli, tuo padre e Mario Marelli, che lì hanno sciato dappertutto. È vero, diciamo che la scelta di questo percorso è ricaduta sulla voglia di far conoscere agli amici che poi hanno corso la nostra gara i luoghi simbolo di Lizzola, che sono le miniere, sono la manina, sono lo sponda vaga, che è una meta sci alpinistica, ormai che ogni domenica tanti appassionati la scelgono. E, diciamo, era un po' il percorso che con Mario tante volte si faceva e con Mario anche si ragionava ad un sogno di una gara un giorno in Lizzola, perché Lizzola ha avuto la fortuna di avere per diversi anni il trofeo Maffeis, proprio il 6 di gennaio, e quindi è sempre stata una località aperta a quello che è lo sci alpinismo gara. Il poterla riproporre, purtroppo, ricordando una persona che non c'è più, ha riacceso un po' l'entusiasmo anche in Lizzola, perché mi fa piacere, e ringrazio ancora Giuliano per le bellissime immagini che ha fatto, la partecipazione anche della gente del posto di Lizzola il giorno della gara. Quindi, veramente, è stata una grande soddisfazione e che dà molto entusiasmo per gli anni a venire. Quantità spesso non fa rima con qualità. Mi spiego? Forse gli iscritti potevano essere di più, ma la qualità dei presenti era di livello. Mi sbaglio? Sicuramente è stato un grande piacere avere i primi della classe, William Boffelli e Pietro Lanfanchi. Tra l'altro Pietro ci ha fatto compagnia anche i giorni prima, durante la tracciatura. Abbiamo avuto anche atleti internazionali come il Didier Blanc, come Cappelletti che state vedendo nella sua discesa, questo è Didier Blanc. Ci ha fatto piacere che comunque la gara abbia portato anche volti un po' nuovi nella nostra valle. Chiaramente il meteo non è stato dalla nostra e quindi qualche partente l'abbiamo perso per strada. Però, tutto sommato, credo che, essendo comunque la prima gara ufficiale della stagione, si può essere contenti e soddisfatti appunto di quello che è stato la Mario Merellice 2018. Allora, Giuliano, le immagini le vediamo e si commentano da sole, sono belle. Sono anche diverse, nel senso che avendo avuto la possibilità di mettere insieme 5 telecamere, che non sarà stato facilissimo, no? No, per me è. Non sarà stato facilissimo. Ma la cosa che mi piace di più è che tu produci i video, tu dici da video amatore, io dico da professionista o da semiprofessionista, ma ce la fai vedere subito, quindi 2-3 giorni e noi vediamo il video. In altre situazioni magari dei professionisti, posso anche dire forse costosi, non lo so, producono dei video che vediamo quando è estate, quando... Questo lavoro qui, quanto ti pesa in termini di tempo a montare il video del Mario Merellice? Posso dire una cosa, che la fortuna di essere pensionato mi permette di fare questi montaggi che richiedono 2-3 giorni a tempo pieno e a volte anche di più dipende cosa si vuole tirare fuori alla fine e della durata e quanto materiale si ha a disposizione, perché rispetto al video che si fa con una telecamera il montaggio poi è più rapido, più veloce. Ma quando si deve scegliere su 3-4 riprese, metterle, posizionarle con un certo senso, dargli una... non è cosa facile. E poi la cosa, secondo me, forse la più difficile è trovare una musica adatta, idonea, che dia un po' di vivacità al video. Allora, tanti plus, quindi tanti applausi, televisivamente ti dobbiamo dire grazie, ma ti dobbiamo anche dire, e questa è una cattiveria. Tiraci insieme delle cose più sintetiche, se no ci fai impazzire, no? Nel senso che seguirli poi e commentarli diventa difficile, ma questa la nostra amicizia ce lo permette, no? Marco, partite finalmente in centro a un paese, anche qui da noi, fate la gara dove possiamo vederla quasi tutti, perché quasi tutti, quindi è un modo di interpretare finalmente uno sci alpinismo moderno e non cacciato lassù, sulle montagne e basta. Credo che il futuro sia lì, nel senso che noi siamo, lo sci alpinismo ha bisogno di visibilità e quindi è importante poterlo portare dove la gente ha la possibilità di vederlo da due passi. Ci fermiamo, diamo un break pubblicitario, ci vediamo tra qualche istante o qualche minuto ancora con Giuliano Zanga e Marco Marelli. Continuiamo a parlare della Mario Marelli C, gara di sci alpinismo disputata il 6 di gennaio a Lizzola, lo facciamo con due protagonisti esterni ma importanti, il direttore di gara e l'operatore, il cameraman. La gara, la gara l'hai citato prima tu, aveva due campioni alla partenza, curiosamente due che corrono di solito in gara coppie insieme. Il Val Brembano, William Boffelli, astro nascente ma già piuttosto splendente del sci alpinismo italiano, facente parte della squadra azzurra. E Pietro Lanfranchi, che è della Val Gandino, lo conosciamo tutti, quest'anno compie 40 anni, è stato estromesso dalla squadra azzurra, ma sono cose loro. E' stata una gara esaltante, però ce la racconti tu che l'hai vista o tu che l'hai vista. Come si è sviluppata? Perché è stata con un finale thrilling, mi sbaglio? Sì, diciamo che Pietro e William si sono andati in battaglia un po' lungo tutta la gara. Io e Giuliano eravamo in postazione in cima allo Spondavaga e è sempre stato davanti William a Pietro, ma sempre nell'ordine di secondi. Hanno combattuto un po' lungo tutto il percorso e nell'ultima discesa c'è stato proprio un colpo di scena dietro l'altro, nel senso che prima William che cade viene superato da Pietro, poi Pietro che arriva alla piazzolla con l'ultimo cambio, William che arriva, fa un cambio in tre secondi perché è una cosa mai vista prima, lo brucia di un secondo e gli passa davanti e poi l'epilogo lo conosciamo. Allora, Pietro Lanfranchi, che è un agonista, non ama perdere neanche a scopa. Vedersi mangiare così dal suo compagno di classe, io dal suo compagno di squadra, intanto guardiamo queste immagini, perché queste immagini le riprende solo Giulie Zanga, ce le porta solo Giulie Zanga e ci fa capire veramente cos'è per certi versi lo sci alpinismo vero. Quindi lo stato d'animo di Pietro Lanfranchi un po' arrabbiato o con un sorriso un po' amaro? Io credo che alla fine il distacco tra Pietro e William è veramente di un niente, quindi fondamentalmente i due motori sono lì. Questa volta è andata meglio a William, magari nella prossima occasione andrà meglio al Pietro. Alla fine credo che sono due ragazzi che hanno la fortuna di avere un motore veramente incredibile e faccio i complimenti a loro perché comunque hanno fatto un tempo ancora veramente importante. Dopo è bello, è bello che due ragazzi bergamaschi siano lì a lottare insieme per vincere la gara. Allora, Giuliano, cos'hai paura di che cosa quando fai ste discele qui? Perché se cadi le telecamere non mica te le regalano. Cos'hai paura di che cosa? Ma diciamo che qua non ho gran paura di cadere perché uso una GoPro che è impermeabile all'acqua. Infatti in alcuni tratti si vede la neve che arriva sopra, l'acqua che sguoccio laggiù. Non posso pulirla ulteriormente però ho cercato di... Con l'altra invece sì, se dovessi usare quella apertura obiettivo che c'è allo zoom lì diventa un po' più complicato perché se dovesse andare nella neve si rovina. Allora Marco, avrei 18 domande da farti personali, te ne faccio una sola. Ma tu, scialpinisticamente, ci sei o ci fai nel serio? Sei uno che va perché si chiama Merelli o sei uno che va e basta? Ma fortunatamente in questi ultimi 7-8 anni ho avuto la fortuna di appassionarmi molto nello sci alpinismo perché io mi conosci da tanti anni, arrivo da un altro sport, però avendo in casa... Che ti ha perso, il calzo, l'abbiamo perso. Però avendo prima Mario e Nidino che chiaramente sulla neve sono nati adesso diciamo questa passione cresce ogni anno di più. Dopo fortunatamente abbiamo questo gruppo di amici che si chiama Merelli Team che è anche dietro l'organizzazione della Mario Merelli C'è e che ringrazio perché sono veramente le ossa di questa organizzazione. E' bello, è divertente e nel mio piccolino qualche soddisfazione me la sto prendendo partecipando anche a gare come Mezzalama, da Mello Ski Ride quindi qualche piccola soddisfazione da amatore perché è quello che sono. Li fai tutti i percorsi, non è che tagli i percorsi. Per il momento, per il momento sembra di sì. Allora, per me parlare di tuo padre è pane, nel senso che ci conosciamo da una vita. Cosa conta? La sua capacità sciatoria, la sua conoscenza della montagna, la sua esperienza e alle volte anche il suo carattere ben posto, ma rude, della serie Non giochiamo quando facciamo le cose serie con Dino Merelli. Sicuramente, se non ci fosse Dino, molto probabilmente la Mario Merelli C'è, non ci sarebbe perché chiaramente la sua conoscenza e la sua esperienza delle montagne di Lizzola è fondamentale. Ne parlavamo giusto con Giuliano prima, che dicevamo nei giorni prima della gara, nella settimana prima della gara, in tanti dubitavano sul percorso, sulla fattibilità, sul pericolo, però, come dicevo Giuliano, quando guardavo il Dino e vedevo che il Dino era tranquillo, la gara si può fare. In verità, doveva venire Dino Merelli, solo che l'ha colpito l'influenza. Non so se l'ha colpito l'influenza o non gliel'ha permesso Marco, ma questa è sicuramente una cattiveria. Ha creato qualche problema, ma non parliamo dei problemi, ne parliamo dopo. Hai gratificato verbalmente il tuo team, ma anche credo ci sia qualcun altro, perché poter utilizzare gli impianti e andare lassù non è poca cosa. Senza dubbio, un grazie di cuore va alla cooperativa Nuova Lizzola, perché nei giorni prima e anche il giorno della gara ci ha messo a disposizione l'utilizzo degli impianti, che sono una risorsa incredibile per noi organizzatori, perché dover partire da Lizzola e fare mille metri di dislivello, perché non ci sono gli impianti, è un grosso problema. Avere il supporto sia logistico dei rifugi ma anche degli impianti chiaramente è una grossa mano, quindi va un grazie di cuore a loro. E come ho detto prima, la cosa che veramente mi ha stupito e mi ha fatto veramente piacere è il fatto della partecipazione attiva di tutte queste persone di Lizzola che hanno contribuito sia a livello di impianti, ma sia anche sul percorso, perché c'erano persone anche lungo il percorso di Lizzola, è stata veramente una grande soddisfazione. Parlavo di regolamenti ma in un flash, questo sport che nasce a diverse diramazioni, perché abbiamo le gare come questa, poi abbiamo le notturne sci russi della notte, quindi abbiamo diverse sfaccettature, poi abbiamo gli amateurs che fanno il pian del termine addirittura in 14 secondi, pian del termine al pora 14 secondi e 32, perché lì ci vedono tutti. Quindi i regolamenti, i regolamenti, il casco, cosa è successo, cosa succede, dove ci si è mossi nel regolamento? Ma credo che all'inizio bisogna fare una premessa, nel senso che lo sci alpinismo è uno sport giovane, è uno sport che sta cambiando negli anni e si sta allineando un po' alle direttive delle federazioni e della federazione internazionale. Quest'anno è subentrata una nuova omologa per i caschi, prima si utilizzavano caschi con omologa solo da alpinismo, adesso serve una doppia omologa. Il problema fondamentalmente è stato che la nostra gara, essendo una delle prime gare, tanti amatori non erano ancora a conoscenza di questo obbligo e quindi si sono trovati il giorno della gara ad avere ancora caschi vecchi che non avevano appunto questa doppia omologa e quindi purtroppo non hanno potuto partire o hanno trovato dei caschi di fortuna prestati da gente che era lì alla partenza e hanno potuto fare la gara. Quindi non è stato un problema, fa parte un po' dell'informazione che è un po' mancata sia dagli addetti ai lavori a livello di federazione e poi a cascata agli amatori che si sono trovati appunto il giorno della gara. Allora, parlo della gara master mentre andiamo verso le battute finali. La gara master ha visto la vittoria di Graziano Boscacci che è una icona dello sci alpinismo da sempre. Boscacci-Murada era una delle coppie migliori ed è il papà di quel Boscacci che è forse il talento insieme ad Antonioli migliore d'Italia. Forse, perché le graduatorie poi... Ma al secondo posto, inaspettatamente per qualche d'uno e inaspettatamente anche per tutti gli altri, Beppe Minuscoli, un operatore commerciale e direi addirittura industriale di livello che trova ancora il tempo, il modo per far vedere che per lui lo sci alpinismo è cosa seria. Ha fatto piacere a tutti. Ha fatto grande piacere a tutti perché il Beppe che tutti noi conosciamo oltre che a essere, come hai detto tu, un industriale di una certa importanza è anche una grande persona. Noi abbiamo avuto la fortuna che in questi anni ci ha aiutato nella ristorazione, nei rinfreschi, ma soprattutto è una persona molto, come si può dire... Esplosiva, possiamo dire esplosiva. Fortunatamente non ci sono i video dei festeggiamenti successivi. Dei festeggiamenti perché pare siano stati molto interessati. Siamo alle battute finali. Questo è un altro di quelli veri. Oscar Negroni, da Gromo, che ha la sua età ed è ancora in discesa uno che sa farsi rispettare. Probabilmente anche in salita, ma d'altro canto quando la passione e unità, le capacità, saltano fuori queste cose. Una domanda che è diritto, ma non tanto diritto. Il sogno, i sogni degli organizzatori, e mi viene un po' la pelle d'occa, a ricordare Mario Merelli. Dove può arrivare come gara, che è ancora giovanissima, la Mario Merelli c'è? Dove può arrivare? O dove volete portarla? Il primo sogno è quello di riuscire a esserci ogni anno, perché comunque dietro una gara di sci alpinismo c'è una macchina organizzativa abbastanza importante. Quindi il primo sogno è poter ricordare Mario ogni anno il 6 di gennaio. Poi i sogni non hanno limite, nel senso che ci sono degli obiettivi importanti che nel tempo non nascondo che vorremmo raggiungere. Dopo non sappiamo quando, però credo che la cosa fondamentale sia poter ricordare Mario ogni anno ed essere questo gruppo di amici che fa tutto questo solo per amicizia nei confronti della famiglia Merelli, ma anche e soprattutto nei confronti di Mario. Io vi ringrazio, fate tanto, però l'anno prossimo cercate di fare una cosa importante sin dall'inizio. Fate venire una volta il sole, perché se no il sole alla Merelli succede come al Paravicini. Grazie a Giuliano per le cose che ci hai portato, per le immagini che ci hai portato. Auguri a Dino Merelli perché guarisca presto. Auguri a te per, e non abbiamo parlato del tuo business perché te ne curi tu, auguri nella tua funzione nuova di direttore di gara e direttore di pista. Non so se sono tutte e due, ma li ho accomunati. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra qualche istante. Stagione agonistica della Federazione Italiana Sporti Invernali doveva essere battezzata idealmente dal presidente Fausto Denti, che saluto, ciao Fausto. Buonasera. E dal capo della comunicazione, responsabile della comunicazione, che è Mauro De Nicola. Benvenuto. Buonasera. Dovremmo parlare tantissimo, il tempo come al solito ci consente solo di dire alcune cose, intanto faccio vedere che ci ha portato e la prossima volta campeggerà sulla nostra televisione il gagliardetto della Fisi, Federazione Italiana Sporti Invernali, di cui è il presidente del Comitato di Bergamo. Come state? E quando si dice al presidente come state, si parla di movimento. Allora, il movimento tiene bene. I nostri club sono ancora molto, molto forti nell'organizzare gare, nel raccogliere nuove leve, eccetera. Tanto è vero che Roda, in occasione della visita ad alta quota, ha dichiarato che il Comitato di Bergamo è il primo in Italia e quindi questo ci inorgoglisce. Certo, abbiamo passato tre anni scorsi con poca neve e questo ha un po' creato dei problemi. E diciamo che nelle nuove leve, specie, sto parlando del fondo, siamo stati un po' penalizzati. Però il movimento è ancora molto vivo, molto ben partecipato e soprattutto ai vertici nazionali, regionali, eccetera. Lui ha citato Roda, che sta per Flavio Roda, che è il presidente nazionale della Fisi. I loro due signori lavorano entrambi in banca e qualche maligno dice stanno in banca, perché hanno sempre detto così. Mauro De Nicola trova il tempo e ce ne vuole tanto per preparare nel suo ruolo di addetto stampa la pagina o comunque le pagine che il quotidiano, che non citiamo ma si chiama Leco di Bergamo, a riserva allo sci. È vero? Sì. I maligni dicono, ma ovviamente nei nostri paesi, perché a Verdello questo non lo direbbero mai, che scrivi molto ma potresti scrivere molto di più. Difenditi. Prima difesa che le ore della giornata sono 24 e più di quelle non posso fare. rubo effettivamente tanto tempo alla famiglia, al sonno, è una grande passione che ho, più di quello che faccio difficilmente penso di riuscire a fare fisicamente. E più poi, è vero, lo sci è molto importante per la provincia di Bergamo, ma non è l'unico sport. Hanno pari dignità tutti gli sport, perfino il tamburello trova il suo spazio, come credo sia giusto e quindi credo che negli ultimi anni si possa dar l'atto al fatto che lo spazio dedicato agli sport invernali è cresciuto, non più soltanto peraltro lo sci alpino, non più soltanto lo sci di fondo, ma c'è spazio anche per lo sci alpinismo e anche per altri sci più di nicchia, come lo ski cross o come lo snowboard, che poi più di nicchia tanto non è, perché con la Moioli oramai è uno sport a livello olimpico. Io penso che questa sia, non penso di dovermi difendere, penso che... Tra l'altro ti sei difeso molto bene, ma difendendoti sul giornale, nel senso che ci porti tante informazioni. Fausto, tu sei più per il solito dilemma, sei più per la discesa o sei più per il fondo? Io sono per tutti e quattro gli sport che abbiamo in provincia, è chiaro che ero partito più per la discesa perché ero più appassionato di discesa, poi frequentando le gare eccetera delle altre specialità mi sono appassionato molto anche sulle altre specialità, in particolare sul fondo che devo seguire un po' obbligatoriamente in quanto responsabile del fondo della provincia di Bergamo. Ti sei autonominato? No, mi hanno nominato il club. Ti hanno nominato gli altri. La discesa è come sempre a due valenze importanti, a due pilastri importanti, uno sta a Bergamo e uno sta in Balgandino, i nomi sono Goggi da una parte nelle sue varie egide e Radici gruppi dall'altra. Da sempre si dicono che loro sono delizia, 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 delizia e qualche volta è croce dello scibergamasco. Questo dualismo diciamo che c'è ancora, è vivo sicuramente perché sono i due club più importanti bergamaschi, però stanno crescendo bene anche altri. 13 Clusone, essendo un club che ha tre specialità, naturalmente, abbiamo lo Zogno Bremboski che sta facendo un bel lavoro, è partito da qualche anno a fare un bel lavoro e ha tanti nuovi ragazzini, tanti nuovi bambini e lo abbiamo visto nella gara di esordio a Foppolo che il movimento è vivo e portato avanti bene. Una volta erano due le valli molto pesanti dal punto di vista della qualità della partecipazione. Mi sembra che la Val Seriana sia andata leggermente avanti, probabilmente anche perché la Val Brembana ha avuto delle problematiche di impiantistiche che esulano dall'agonismo. Sì, abbiamo vissuto appunto, come ho detto all'inizio, anni senza neve. Queste hanno portato le nostre stazioni ad andare in difficoltà. Quindi Foppolo, sappiamo tutti, abbiamo tutti noto le vicende. Questo ha penalizzato molto l'attività dei club che si basavano su quella stazione lì. Val Torta, dal parte sua, Piani di Bobbio Val Torta, presa dal grande afflusso di turisti milanesi. Non ama molto l'agonismo, le gare e quindi diciamo che la Val Brembana è rimasta penalizzata. Di qui invece in Val Seriana diciamo che anzitutto c'è i radici con i grandi investimenti che sta facendo Alpora che sicuramente danno un nuovo slancio. In più ci sono più stazioni perché c'è spiazzi di Gromo, Lizzola, Colere e quindi il vaccino è molto più ampio. Allora, Sergio Tiravoschi, che è un collega tuo e mio, è di Zogno. Di qua abbiamo sempre detto tutti che Sergio Tiravoschi parteggiava per lo sci della Val Brembana. Vero? Falso? Sergio tra l'altro è un insegnante in pensione, un buon tempone, che faceva anche lui bene il suo lavoro, che fa anche lui bene il suo lavoro. Tu hai riequilibrato le sorti e di questo ti siamo grati. Perché io lo credo veramente che tu mi sembra che sei molto equilibrato. O mi sbaglio? Mi fa molto piacere quello che stai dicendo. Io spero e cerco di essere sempre più possibile equilibrato, non parteggio per nessuno, parteggio per i ragazzi. Io anche quando scrivo gli articoli mi sono dato una regola e dico ok, in funzione dello spazio che ho, quanti ce ne stanno? I primi dieci. Allora tutti quelli classificatisi nei primi dieci di Bergamo, li cito. I primi quindici, tutti i primi quindici, indipendentemente dal colore della casacca. È una cosa che mi fa piacere, allacciandomi un momento al discorso di prima anche del presidente, che hai fatto anche tu. È vero, c'è questo dualismo in provincia tra Goggi e Radici, ma molto bello è stato. Alla prima gara dei Pulcini di settimana scorsa a Foppolo, dello sci alpino, sul podio sono saliti atleti appartenenti a sette sci club differenti, che sono presenti su tutto l'arco delle Orobie. Quindi questo vuol dire che il movimento, sì, è chiaro che ha due forze dominanti, ma è fatto anche da una base molto solida e che sta crescendo molto bene, grazie al lavoro dei tantissimi volontari che si impegnano. Un tempo lo sci bergamasco era supportato da nomi importantissimi della valanga bergamasca in valanga azzurra. Ne cito uno su tutti, Fausto Radici, indimenticato e indimenticabile, ma poi tutti gli altri, Gregis, Tomasoni, Ferris, Pampatti e li nasce indietro chissà quanti. Adesso c'è due signorine che profumano di mondiale, una si chiama Sofia Goggia e una si chiama Michela Moioli. Avere due testimonial di così alto lignaggio, questi due testimonial sono vantaggi o queste due fanno la loro strada e voi la vostra? Direi proprio di no, loro sono dei grandi volani, perché tutti i ragazzini quando sentono parlare di Sofia Goggia per l'alpino o di Michela Moioli per lo snowboard, li vedi che si entusiasmano in una maniera incredibile. Tanto è vero che alla festa di fine anno che abbiamo fatto noi della Fisi avevamo tutte e due e abbiamo avuto un numero impressionante di presenze proprio perché queste ragazze qui tirano molto. Parlo da sciatore e poi parlo da nonno. Da sciatore se ne portate ancora sugli sci di questi bambinetti che sono ancora in fasce mi lamento perché veramente diventa bellissimi da vedere ma ormai sono diventati padroni delle piste. Da nonno dico io da nonno quattro nipotini, due di questi sciano, non so come collocarli perché litigherei con questo o con quell'altro allenatore visto che li conosco tutti e in questo momento li portano da nessuna parte. Ma c'è un movimento che è targato da Antonio Norris da una parte, Ennio Frigeni dall'altra, ma poi tutte le scuole che fanno corsa che è piacevolissimo vedere perché io da nonno il giovedì e il venerdì salgo adesso al passo della Presolana come faceva mio nonno ad allacciare gli scarponi ai miei nipoti ed è bello vedere le scuole sci spesso in contrasto tra di loro lavorare insieme. Magari con qualche muse ma li ho visti lavorare benissimo. La piantate di portare bambini in pista o no? Anzi bisogna incrementare sempre di più perché diciamo che il bacino d'utenza è sì ampio ma ha bisogno di ulteriore attività proprio a livello diciamo di bambini piccoli della pena delle elementari, di inizi elementari eccetera perché se la base è molto ampia abbiamo più possibilità di avere poi dei campioni. Se la base si restringe per vari motivi poi alla fine ne arrivano pochissimi. Allora io ho salutato come tutti del resto con grande entusiasmo il fatto che qui cinque comuni dell'Unione dei Comuni e li ricordo tutti, Rovetta, Fino del Monte, Songavazzo, Cerete e Castiona Presolana abbiano regalato ai ragazzi dai 6 ai 16 anni lo stagionale per diverse, non soltanto quelle della Val Seriana ma anche quelle della Val di Scalve ma anche della Val Camonica, lo stagionale che permette ai bambini sciare. Alle nostre quote dovremmo sciare tutti, bene o male dovremmo sciare tutti ma soprattutto per portare in pista o comunque in albergo, in ristorante, i nonni perché così si lancia il turismo. Poi c'è stata qualche critica ma chi fa ogni tanto sbaglia e alle volte chi critica sbaglia due volte. È stata una bellissima iniziativa. Sicuramente come lo era la nostra quando abbiamo lanciato lo stagionale provinciale per i bambini proprio dai 6, 8, 10, 12 anni. Noi avevamo lanciato uno stagionale provinciale a prezzo vantaggiosissimo proprio per cercare di attirare più bambini possibili nelle nostre stazioni. È durato solo un anno perché non è stato capito dalle stazioni perché le stazioni non capiscono, non so perché, non capiscono che il futuro sono i bambini. Più bambini facciamo sciare più domani ci sono turisti che poi sciano oltre a tutto quello che poi viene dietro l'agonismo e tutto eccetera. Però non hanno capito che invece era una grande iniziativa da portare avanti ma purtroppo è durato solo un anno. Il fondo non ha bisogno di impianti, la discesa sì, ma anche lo snowboard e il rapporto tra la Fisi oppure il presidente della Fisi e le società impiantistiche che vedono un kaleidoscopio di presenze difficile perché ci sono alcune società e alcune società di impianti che tutti fanno il possibile ma qualcuno sembra fare anche di più del possibile. I tuoi rapporti sentono che tu sei il presidente o no? È difficile. È difficile dire questo. Vorrei che fosse così ma vedo che alle stazioni non si capisce, a parte il Pora che è un discorso a sé per via di quello che abbiamo detto prima, per le altre stazioni fa piacere che ci siano i bambini dei club però poi quando vai a chiedergli una promozione per i bambini dei club non ci sentono. Di fatti l'unica stazione che ha fatto promozione veramente per i bambini e per la tessera Fisi è il Monte Pola. Gli altri non ci sentono, non c'è quel rapporto che ci dovrebbe essere fino in fondo. Sì, c'è, ma non fino in fondo. Allora, io ho un'età che non vi dico, ma scio da quando avevo sei anni e da cinquant'anni faccio discesa. Ho visto tantissime stazioni qui all'estero, alcune volte mi mangio le unghie perché dico, e non voglio fare il professorino perché non mi piacciono, le nostre comunità intese come territori non sono ancora pronte a competere, non diciamo con le grandissime qualità, ma con altre valli dal punto di vista della logistica, dell'accoglienza. Presidente, che ne pensi? Negli anni passati alcune stazioni hanno privilegiato le seconde case, invece che alcuni comuni, non più che le stazioni, privilegiato far solgere un sacco di seconde case invece che alberghi o recettività. Oggi ne pagano le conseguenze perché oggi devi vendere dei pacchetti, devi vendere i pacchetti in cui c'è compreso lo ski pass, l'albergo, il divertimento oltre allo ski, ma i nostri comuni delle alte valli non si sono attrezzati per questo e quindi ne paghiamo pesantemente le conseguenze. Perché chiaramente anche altre stazioni che non sono grandissime però hanno invece lavorato in modo diverso. Stiamo perdendo, mi permetto di entrare a gamba tesa, ma stiamo perdendo una grandissima occasione, che è quella di avere il più grande aeroporto low cost a 50 km, meno di un'ora di strada dalle nostre stazioni. Non abbiamo saputo leggere il futuro. Sai che io penso che neanche alcuni di noi sappiano che c'è il quarto aeroporto italiano a Bergamo, perché lo sfruttiamo come lo sfruttiamo. Quindi poi noi facciamo il nostro lavoro e loro facciano il loro. Mi veniva da chiederti, ma quando devi decidere dove andare la domenica? Cosa fai? La monetina? Fai i chilometri? Come fai a decidere da addetto stampa? Ma per fortuna all'interno della fisica di Bergamo siamo una squadra, per cui ci guardiamo in faccia, ci mettiamo d'accordo e si decide dove si va. Poi si cerca di ritenere un po' conto delle inclinazioni. Io ho dei ragazzi che sciano, dei figli che sciano, per cui se appena appena riesco ad andare dove vanno loro, chiaramente però ci si mette d'accordo tra noi. Tu ci vai in macchina, lui ci vai nell'elicottero, lo sappiamo. No, lui è il presidente. Questa è una battuta. Allora tu sei famoso e sei arrivato lì con un'etichetta che sai catturare una cosa che si chiama Euro o Argent, d'accordo? E questa qui è una qualità incredibilmente importante. Le altre possono venire dopo, ma se la Gianchi fa la guerra. È vero? Sono fortunato. Se lo dico solo questo. Da grande cosa farai? Allora, premesso che adesso finisce il mandato a primavera e quindi si passa alle elezioni nazionali, regionali, provinciali. Premesso e concesso che sarò ancora a Bergamo. i sogni nel cassetto, chiamiamoli così, sono due. Uno, di portare un grande evento del fondo in città. Mamma mia! E perché sarebbe bello riuscire a portare a Bergamo, non dico la Coppa del Mondo, no. Ma dove? In città dove? Facci venire. In città dove? In città, in centro Bergamo. In centro? Sì. Facciare le mura, eh? Facciare le mura. Scalpinismo si potrebbe fare. No, questo sicuramente. E poi, sempre parlando del fondo, perché appunto essendo responsabile del fondo, mi sento di dire, uno ski tour, l'anno scorso abbiamo organizzato con grande successo lo ski tour di Bergamo. Quest'anno non lo fai? Quest'anno è in Valtellina, ski tour Valtellina, e per il futuro si potrebbe pensare a uno ski tour della Lombardia, a metà tra Bergamo e Valtellina. Sarebbe bellissimo. La tua squadra, Fisi, io l'ho vista, in alcuni elementi, sono critico, lavorare è bene, in alcuni altri latitare è bene, mi sbaglio? Penso sia così in tutti i comitati. perché, sai, uno vuoi che si mette in gioco, poi per vari motivi, impegni, eccetera, non riesce a dare quello che vorrebbe. Qualcun altro non si capisce perché si metta in gioco, però va bene così, l'importante è che qualcuno lavori. Hai già presentato, idealmente, a Fausto Denti, quindi a te stesso, una idea di nuova squadra o di squadra ridisegnata o è ancora prematuro? È prematuro. Bisogna riflettere bene e parlare con i vari livelli della Fisi e poi vedere. L'ultima domanda, perché è l'ultima. Domenica prossima il campionato provinciale di fondo, sbaglio, doveva essere disputato alla spessa per motivi che capiamo tutti, perché in questo momento qui, nonostante ci sia l'anello, viene trasferito a Gromo. Tu sei a Gromo? Allora, domenica mi dividerò in due. Sarò al Pora nella prima parte per il circuito dei cuccioli, baby, allievi ragazzi, organizzato da Radici e la seconda parte verrò a Clusone per le premiazioni, perché ci tengo a esserci, però devo dividermi ogni tanto. L'ex presidente della provincia di Bergamo in un giorno faceva otto eventi, quindi ne hai ancora sei da aggiungere. Io riesco a farne due. Io vi ringrazio per essere venuti, perché venire su da Bergamo per presentare la Fisi, che poi è la vostra anima, è sempre piacevole. Mi piacerebbe poter utilizzare i vostri filmati, perché so che su tutte e due i settori importanti, quindi alpino piuttosto che nordico, avete degli operatori che ovviamente farei girare. Qui poi mi piacerebbe darvi uno spaccatino di 5 minuti, 10 minuti, che se lo occupate mi fate un favore, perché parliamo di un'attività importante che è lo sci, ma quello fa parte delle vostre disponibilità o meno. Intanto grazie. Grazie a voi. Allora, io ringrazio tutti. Questa qui è la puntata a zero di N come neve. Andiamo in onda tutti i mercoledì come stasera alle 21.30. Poi appena abbiamo le date e gli orari di scadenza ve li comunichiamo. Da parte mia, e ve lo dico col cuore, avete visto che sono partito stasera senza sponsor, perché non volevo privilegiare qualche d'uno che ha già aderito e qualcun altro che sta aderendo. Comunque ci vediamo mercoledì prossimo con N come neve su Antenna 2. Grazie e buona serata.